3 e 4 aprile finalmente arrivo a lecce a casa mia teatro apollo con due dei tre spettacoli che compongono il progetto che ho dedicato alla famiglia contemporanea progetto che è stato accompagnato con mio grandissimo piacere da massimo recalcati col quale siamo amici da molti anni non è una collaborazione nata per l'occasione che ha fatto da consulente alla drammaturgia la scrittura raccontandovi semplicemente e per vie molto generali non entrando mai nello specifico dei singoli casi le storture le disfunzioni relazionali all'interno della famiglia contemporanea italiana io ho messo insieme ho messo insieme quello che massimo mi ha fornito dal punto di vista scientifico con ciò che vedo intorno a me sotto casa davanti alla scuola di mio figlio confrontandomi con i miei colleghi genitori e credo di aver raccontato una famiglia italiana contemporanea molto 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 in crisi sono i due capitoli sono quello dedicato ai figli il 3 aprile e quello dedicato ai padri il 4 sono spettacoli dove si ride molto ma si ride poi alla fine amaramente nel primo caso ci sono 13 interpreti 13 personaggi per 11 interpreti fenomenali veramente sono grato alla alla sorte di avermi regalato una compagnia incredibile sia per gli attori che vedrete in scena fisicamente sia per quelli che vedrete in video ma non ve ne accorgerete sono talmente potenti che sembra di averli lì e tra loro ci sono tra l'altro due preziosissimi regali fattimi da arturo cirillo e saverio laruina che sono due eccellenze del nostro teatro che mi hanno voluto accompagnare seppur in modo virtuale in questa avventura ma devo dire che tutti gli altri attori sono tutti a quell'altezza per cui sono sono davvero emozionato di portare un teatro in teatro uno spettacolo così così complesso così proprio grosso il grande teatro la sera dopo invece sarò da solo sarò da solo ma interpreterò tre padri racconterò di padri molto diversi tra loro per cultura per condizione economica per estrazione geografica ma tutti e tre rimediabilmente nudi davanti ai loro tre figli adolescenti che non sanno come gestire la sera prima come ho detto dei figli ma attenzione non più questi adolescenti che hanno a che fare con i padri o i bambini di cui ho parlato uno spettacolo sulla madre che non vedrete in questo giro ma dei figli che potrebbe pronunciarsi anche dei figli con l'aria aperta quindi diventa divinità figli cioè i 18 45 anni italiani che non hanno nessuna intenzione di smettere il loro ruolo di figli pur essendo magari a loro volta sposati ed essendo diventati genitori ma fondamentalmente legati da questo cordone ombelicale mostruoso con la famiglia d'origine beh insomma sono emozionatissimo di tornare a lecce a casa mia di arrivare nella stagione principale e in un teatro così importante come la collo che peraltro non ho mai vissuto da da professionista ma non lo ricordo quando da ragazzi ci si andava al cinema e quindi sarà un emozione anche quella e insomma non vedo l'ora di arrivare ci vediamo presto ciao ciao